Continua il piano della regione siciliana per affrontare l'emergenza idrica che da circa un anno attanaglia l'isola e i vari territori. Sono 132 i progetti che compongono la seconda fase degli interventi in itinere per mitigare gli effetti della siccità in Sicilia. Un piano dal valore complessivo di 66 milioni di euro. Si tratta, come è noto, di programmi messi a punto e predisposti da comuni, ati e vari enti gestori del servizio idrico. Tra questi, in provincia di Agrigento, sono stati finanziati tre progetti. Quello di Agrigento con 250 mila euro che saranno destinati al potenziamento dell'impianto di soldevamento di San Biagio Mendolito. Quello di Montevago con altri 350 mila euro che consentiranno la realizzazione di un nuovo pozzo nel comune Belicino grazie ad un progetto di Sicilia Acque. E' quello di Lucca Sicula, il più corposo, con 800 mila euro di finanziamento, che saranno utilizzati per la sistemazione di due pozzi, l'installazione della elettropompa e la realizzazione di tutte le opere necessarie a portare l'acqua fino alla vasca comunale di accumulo. Un progetto che, una volta realizzato, sarà utilissimo a lenire tutti i disagi idrici del territorio, con enormi benefici, soprattutto riguardante l'approvvigionamento dell'acqua potabile. I fondi passeranno per il tramite della protezione civile regionale, diretta da Salvo Cocina. Ai nostri microfoni le considerazioni del sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Lazzo. E' un finanziamento importante e al quale progetto abbiamo lavorato tantissimo. Quest'anno è stata un'annata particolare, caratterizzata appunto dalla siccità. Siccità che, per quanto concerne il comune di Lucca Sicula, ma anche il territorio limitrofo, ha riguardato quest'anno soltanto l'agricoltura. Però questi tipi di annate potrebbero comportare problematiche, anche per quanto concerne l'acqua potabile. Ecco perché abbiamo subito presentato, contattando i vertici dell'Ate, anzi colgo l'occasione per ringraziare il Presidente, il collega Giovanni Cirillo, i vertici dell'Aica. Abbiamo appunto spinto affinché questo progetto fosse attenzionato dalla cabina di regia. Prevede appunto il finanziamento di due pozzi già esistenti, ma da diversi anni, in disuso. E ripristinare questi pozzi sicuramente potrà essere una garanzia per i miei concittadini, i quali in annate particolari come queste, che noi ospichiamo, non si verifichino mai più, si troverebbero appunto con la garanzia dell'acqua potabile tutti i giorni. Ci sono quindi nel vostro territorio ancora sorgenti che possono essere utilizzate? Sì fortunatamente, ci sono queste due sorgenti che a seguito appunto della realizzazione e il ripristino dei pozzi esistenti appunto garantiranno la fornitura dell'acqua. Tra l'altro il progetto prevede il passaggio dell'acqua all'interno appunto dai pozzi direttamente al serbatoio comunale. Quindi soddisfare le esigenze di Lucca Sicola, ma la quantità che sarà in più ovviamente sarà distribuita anche negli altri territori dove avranno necessità. Tra l'altro questo progetto in provincia di Agrigento è quello più corposo con ben 800 mila Euro. Sì l'importo di 800 mila Euro ha preso appunto che si tratta di uno dei progetti di maggiore entità rispetto a quelli che sono stati presentati in provincia di Agrigento. Questo alla fine altro non è che, come dire, è di buono spigio, ma è la certezza e la garanzia che quando c'è un'amministrazione comunale che lavora, che spinge, ci sono le giuste e dovute interlocuzioni con i vertici regionali, con il governo, con la protezione civile collati, quindi in uno spirito di collaborazione reciproca i problemi si possono risolvere. Grazie.